Giornata calda non solo sul piano meteorologico ma anche sul piano delle trattative di mercato Per quello che riguarda il Milan per potenziali uscite ma molto potenziali e solo potenziali e eventuali possibili entrate Parliamo delle uscite prima, parliamo di Pobega, il Torino secondo i colleghi di Tutto Sport avrebbe richiesto Pobega ancora una volta Il giocatore, non dimentichiamo, ha appena firmato un contratto fino al 2027, è italiano Devo ben informarmi presso le mie fonti per capire se ci sia una reale intenzione di accontentare il Torino Mi sembra una cosa molto poco plausibile perché il Milan perde un italiano e già non ne ha tanti nella rosa Italiani formati dal club o italiani che possono ovviamente aiutare a comporre le liste per la prossima Champions League Ma poi oltretutto è un po' scarno a centrocampo indipendentemente dall'infortunio di Krunic che tornerà Pobega, Tonali e Benasser sono con Tonali e Benasser più titolare di Pobega Sono i tre che si giocano in questo momento i due posti a centrocampo E dunque, visto che Baccaio Co in questo momento è un pochino più indietro degli altri Se dessimo via anche Pobega Beh, chiaro che ci sarebbero dei grossi problemi Anche perché l'eventuale rinforzo, diciamo il sostituto di Chessy Ora che si inserisca bene, vedete con che calma Pioli inserisce De Chetelare, Adli eccetera Ci fa capire che non sarà un giocatore pronto immediatamente Dunque, penso proprio che Pobega rimanga e vediamo l'ora di vedere Pobega E vediamo l'ora di ammirare, applaudire Pobega in campo Perché potrebbe farci capire quale potrebbero essere le soluzioni E soprattutto ci potrebbe far capire quale sarà l'utilità Se Pobega possiamo iscriverlo fra i grandi campioni del Milan Quello che ci auguriamo Quindi non credo proprio che Pobega possa andare al Torino Ma ci informeremo e capiremo se la mia sensazione, la mia opinione sarà suffragata Poi parliamo dopo di Leao E adesso torniamo alle entrate Oggi potrebbe essere il giorno di Onana Per capire se sì o no e se si andasse su Vranx Il Milan non mi sembrabbe intenzione di dare 6 milioni più 1 di bonus E una percentuale sull'eventuale vendita Il Milan chiede il prestito per Jean Onana Giocatore del Bordeaux Giocatore che il Milan prenderebbe appunto per rinforzare in tutti i sensi Non solo numericamente ma anche fisicamente il centrocampo Oniedeca intanto sembra che vada al Bruges Quindi era una bella scelta per il Milan Che non ha valutato 10 milioni la cifra congrua per Oniedeca E quindi lui adesso sta andando al Bruges Così si dice Mentre per quello che riguarda Vranx Potrebbe essere l'altra soluzione L'altra alternativa, l'altra opzione Nel caso non venisse Jean Onana Mentre ho chiesto proprio questa mattina Non ci sono, dopo i colloqui ieri di Tanganga Con Conte e con la proprietà Non ci sono notizie, non ci sono novità Per quelle che riguarda appunto il difensore inglese Non sembra che voglia andare al Nottingham Palatici e Daniel Levy avrebbero rifiutato i 20 milioni del Nottingham Perché ritengono che la cifra che il Valga Che possa valere Tanganga sia superiore Quindi anche in questo senso situazione magmatica Ma è una situazione magmatica che se il Milan non vuole pagarlo E non vuole l'obbligo Il Milan non lo prenderà Perché come ho detto più di una volta Ma non è che me lo sono inventato Me l'hanno fatto capire Per il difensore centrale non c'è budget E quindi sarà solamente un prestito Così mi è stato detto E quindi andiamo avanti con questa linea Per quello che riguarda il campo E poi parleremo di Leao, non mi dimentico Per quello che riguarda il campo Oggi torna il Milan ad allenarsi in vista del match Contro il Bologna Che certamente non avrà Orsolini Perché è stato espusso domenica scorsa Il Milan Tutti pensano che sia abbastanza facile Nell'indovinare la formazione Perché si parla di De Ketelare Sembrerebbe abbastanza scontato Sembrerebbe abbastanza scontato Giroud Con Leao E con a destra E con a destra Selemekers favorito su Messias Che ha giocato le ultime partite Questo però si dice martedì Senza un allenamento Sono previsioni Idee Sensazioni Logiche Ma suffragate dal nulla Sono ipotesi Molti chiedono per quale motivo Adli non sia stato ancora messo in campo Adli allora viene ritenuto innanzitutto un giocatore non da due a centrocampo Perché non ha secondo il Milan la fisicità per giocare a due In questo momento come dieci Ha davanti Diaz e De Ketelare Quindi bisogna aspettare un po' Il giocatore Adli è fatto e finito un giocatore da 4-3-3 Cioè nei tre di centrocampo Nel Milan non si gioca Almeno in partenza Poi durante la partita Chiaro che ci siano delle venienze Nel 4-3-3 E quindi è un giocatore che in questo momento È in cantiere È in cantiere Lo stanno lavorando Deve inserirsi bene Capire l'intensità Capire magari di Magari di passare Pallone più verticale Piuttosto che come sua abitudine Appoggiare e poi andare Quindi è un giocatore che il Milan in questo momento sta Costruendo secondo i suoi dettami Bisogna avere un po' di pazienza E se vi dico queste cose Non le immagino Ma le ho Diciamo Approfondite E veniamo al tema più scottante di questo video Ma Mi interessano i vostri commenti Ho messo Ho messo sul mio profilo Instagram Questa affermazione Nell'intervista lunga molto bella Ieri con sconcerti su Leao Sentitelo Leao Se posso scegliere Non lo cedo mai A me ricorda Ricorda Arri Con qualche diversità Ma insomma Non sono il primo che lo dice Con qualche diversità Arri aveva il passo appena più lungo Leao gioca col pallone attaccato ai piedi Anche che E quando Riesce a proteggere il pallone Mentre fa lo scatto Leao non è in discussione È decisamente Il giocatore migliore Migliore che c'è Almeno sotto i 25 anni Per non arrivare ai Di Maria Ma certamente Siamo sui livelli Lui non lo cederebbe mai Benissimo Però L'ho messo su Instagram E ci sono già dei commenti No Assolutamente mai No Mandarlo Se arrivassero dei soldi Via Rifaremmo la squadra Altri Mai cederlo Altri Se arrivassero Zieke Pulisic Allora Potremmo cederlo Perché il Milan Si rafforzerebbe Mi interessa La vostra Opinione Io Direi che solo per soldi A 10 giorni A una settimana Dalla fine del mercato Non ha senso Perché non possiamo mettere 150 milioni O 120 milioni O 100 milioni Una valigetta Sulla fascia di sinistra Perché la valigetta È ricca È appetitosa Ma rimane ferma E non è leao Primo punto Quindi Il denaro Eventualmente Se ne riparla All'inizio del mercato Di un altro mercato Non alla fine di questo E incominciamo Secondo me Penso che tutti Siano d'accordo con me Ma La cosa Che potrebbe Diciamo Far Pendere La bilancia O far cambiare Parere È Signori Se arrivassero Per esempio 20 o 30 milioni Più Zieke Pulisic È un giocatore Che nel Milan Francamente Andrei a prendere Qualcun altro Perché Zieke Va bene Pulisic Vabbè Mettiamolo lì Ma È una punta Molto anomala Non è Non può certamente Sostituire a sinistra Leao Ma facciamo finta E poi magari Loftus-Cic Che farebbe fare Lo dico da tempo Un salto di qualità Al centrocampo Un enorme salto Di qualità Allora Con Loftus-Cic Zieke Eventualmente Un altro giocatore Potrebbe essere Pulisic Comunque è un giocatore Di valore Cosa fareste Cosa faremmo E lì la domanda Diventa già più complicata Diventa più complicata Perché non dobbiamo Dimenticare Che io Non sono ancora Così sicuro Che il Milan Riesca A trovare L'accordo Per Leao Per il Rinno Perché bisogna capire Quali siano Le intenzioni Le intenzioni del Milan Sono chiare Quelle di rinnovare Ma bisogna vedere Il Milan Fino a dove Può andare Con l'offerta Io Sono convinto Che con 4 e mezzo Leao E Mendes Diranno sempre No Sono convinto Che il Milan Non so Se farà un'eccezione Vista di solito Le strategie Rosso-Nere E possa dare 6-7 Non l'ha fatto Con altri Giocatori Non so Se lo possa fare Con Leao Ci sono sempre Delle eccezioni Lo farà il Milan Quindi Mettiamo anche Quando si Valuta Se sia il caso Di cederlo Ma stiamo giocando Stiamo facendo Fantacalcio Ci stiamo divertendo Stiamo stimolando Delle risposte Stiamo stimolando Dei pensieri Quindi Nessuno Sta dicendo Che arriveranno Questi E il Milan Cederà No Stiamo Così Capendo Qual è l'umore Nostro Dei tifosi Quindi bisogna Mettere sul piatto Della bilancia Anche Non una Sicurezza Aritmetica Che il giocatore Rimanga Quindi va valutato Tutto insieme Mi interessa La vostra opinione Non tanto Sui 120 milioni Adesso Che Francamente Con 120 milioni Adesso È difficile Trovare giocatori Perché anche altre squadre Se tu dessi questi soldi O parzialmente questi soldi Ad altre squadre Avrebbero il problema Di rinforzarsi Quindi Mi sembra una cosa In questo momento Impossibile Ma se arriva Se l'offerta del Chelsea Mettesse dentro Anche giocatori Indubbiamente Quando l'hai davanti Una valutazione Anche se Ha intenzione Di non cedere Leao È giusto Che i dirigenti La facciano È il loro mestiere Di porsi Dei problemi In questo senso Quindi Mi interessa La vostra opinione Di fronte a un'offerta Non solo economica Ma economica E con giocatori Del Chelsea Ovviamente Cosa fareste? Mi interessa E poi una volta Che vedo I vostri commenti Poi Andremo a Discutere I vostri commenti E capire quale sia Il sondaggio Il sondaggio Da che parte Perché non è così scontato Io I grandi giocatori Vorrei sempre Che rimanessero nel Milan Senza alcuna discussione Assolutamente Però Razionalmente Questa è l'emozione La ragione Dice Almeno guarda Milan non lo vuole cedere Leao non vuole andare via Siamo tutti d'accordo E lo vogliamo qua Però Stiamo Giocando A questa ipotesi Mi interessa La vostra opinione Dei miei Amici followers Vecchi cuori Rossoneri Mi interessa Ovviamente Capire Che cosa In questo caso Ne pensiate Se vi è piaciuto Questo video Mettete il vostro like Iscrivetevi al canale Youtube di Carlo Pellegatti E attivate la campanella